Sono già una settantina le vittime delle violenti tempeste che stanno colpendo il sud degli Stati Uniti. Nella sola Alabama almeno 45 persone sono rimaste uccise per le conseguenze di pioggia e vento. Sette governatori hanno dichiarato lo stato di calamità. L'ondata di maltempo interessa in totale 21 stati e secondo gli esperti potrebbe tornare a colpire più duramente nel fine settimana. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. In qualche caso rimaste isolate per la furia degli elementi. Nel tentativo di fare defluire le acque da numerosi bacini ormai stracolmi, diverse dighe sono state aperte. Ingenti i danni causati dai tornado, nella sola giornata di martedì se ne sono contati ben 45.